Sono Igor Anissimo, frequento l'istituto alberghiero Massimo Alberini di Treviso, il menù del ristorante di Amici di Godia di Udine che vi presenterò rientro nel progetto FSA della Regione del Veneto del 2011, intitolato Tecnico dei Servizi di Bankating. Antipasti, crema di patate navelle, capessante, goccia di guanciale e misticanza, il mare, crema di ricotta, alghe, gelato di ricci, mazzancolle e cozze, crude di scampi e creme. Primi piatti. Risotto all'acqua di grana padana, limone di costiera, tartufa nera e mazzancolle, al parmellino. Tortelli di marcundella, fondente di cipolla e gel di nonce. Secondo piatto di pesce Cernia in olio cottura con nervetti di vitello e infuso di zenzero e lemongrass. Secondo piatto di carne Vitello La lambata rossa con crema di ricotta, aglio di vigna, alvin brulè e botarga di tonno. Dessert Madagascar Cremoso di cioccolata al pepe rosa con il suo biscotto, banana al passion fruit, gelato alla vaniglia e meringa al caffè. Dessert Madagascar